è subito tempo quindi di archiviare questo Roma Inter due a due mettiamo da parte un po' tutto quelli che sono stati anche gli strascichi del finale del post partita dell'olimpico perché è già ora di tornare in campo di nuovo in questo tour de force senza sosta mercoledì ventidue luglio ore ventuno e quarantacinque si gioca la trentacinquesima giornata di Serie A con l'Inter che ospita a San Siro torna a San Siro dopo due trasferte per affrontare la Fiorentina una Fiorentina che dicevamo si è adesso messa in una posizione abbastanza più tranquilla rispetto a qualche giornata fa dopo questa ripresa vado a mostrarvi a tal proposito anche la classifica che specifico stiamo registrando prima dell'avvio delle gare di questo trentacinquesima giornata di Serie A che ha due anticipi in questo martedì al momento la classifica prima dell'inizio quindi della trentacinquesima giornata di campionato vede la Juventus prima acquata 80 punti l'Inter a 72 tallonata dall'Atalanta a 71 e dalla Lazio a 69 ripetiamo l'Inter è aritmeticamente certa di aver raggiunto almeno il quarto posto in classifica e proverà a fare meglio la Fiorentina invece la troviamo al momento al dodicesimo posto con 42 punti al pari del Cagliari con una distanza ormai di sicurezza di 13 punti dal Lecce che tra l'altro ha battuto in una delle ultime sfide quindi la Fiorentina si è riportata in zona in una zona di classifica abbastanza tranquilla per cui così come l'Inter come ha detto il mister che si potrà permettere di affrontare questa sfida in maniera un po' più tranquilla anche la Fiorentina sicuramente non arriva con l'obiettivo di far punti detto questo ovviamente sempre bisogna prestare attenzione soprattutto ad una squadra contro la Fiorentina lo abbiamo visto anche all'andata quando finì 1-1 con un gol beffa di Vlaovic al 92esimo comunque in pieno recupero dopo che l'Inter era andata in vantaggio con Borca Valero un gol annullato a Lautaro Martinez l'Inter poteva chiudere la partita abbastanza tranquillamente al Franchi ed invece è diventata una di quelle gare che quest'anno ci fanno mangiare un po' le mani per non dire altro però si torna a San Silo dopo due trasferte c'è l'obiettivo chiaramente di vincere per poter ambire almeno al secondo posto la Fiorentina dicevamo tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque sfide andiamo a vedere quelle che sono le probabili formazioni Vesino è la notizia di giornata ed è stato operato per cui la sua stagione va considerata ormai finita in infermeria resta anche Stefano Sensi per il quale il mister ha fissato come obiettivo la sfida contro il Getafe che si disputerà il prossimo cinque agosto ottavi di finale di Europa League che si giocheranno in Germania nella Fiorentina invece ci sono due assenze importanti comunque nessuno squalificato mancano Benassi uno degli ex di questa sfida e anche il portiere Drongovski l'Inter dovrebbe quindi schierarsi con il tre quattro uno due mister tra l'altro nell'intervista pre partita si è detto soddisfatto del del nuovo modulo del tre quattro uno due con il trequartista che sta piacendo anche agli stessi calciatori ha detto il mister mister conte che appunto dovrebbe schierare Andanovic in porta con Skriniar Defray e Godin in difesa Godin dovrebbe prendere il posto di un bastoni che secondo me nelle ultime uscite l'ho visto un po' balbettante a centrocampo Moses sulla destra far rifiatare Candreva con Brozovic e Barella a comporre la mediana a sinistra dovrebbe esserci nuovamente eh Biraghi titolare sulla corsia con Borca Valero e questa è una scelta che potrebbe far discutere fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti il mister dovrebbe preferire ancora una volta Borca Valero a Christian Eriksen sulla trequarti scrivetemi nei commenti la vostra opinione se siete d'accordo e poi anche una novità davanti perché Lukaku è recuperato e ha giocato i minuti finali della sfida contro la Roma facendo intravedere cose importanti oltre ad aver messo a segno il rigore che ha portato risultato sull'uno uno finale eh quindi Lukaku torna a titolare e la novità è che al fianco di Lukaku dovrebbe esserci Alexis Sanchez con Lautaro Martinez che va verso la panchina al momento Sanchez è in leggero vantaggio su Lautaro Martinez un Sanchez che tra l'altro arriva da un filotto di quattro vittorie consecutive nel nel MVP di Passione Inter punto com quindi i vostri voti hanno eletto per quattro volte consecutive Alexis Sanchez migliore in campo nelle sfide dell'Inter portandolo al ridosso della classifica del podio eh della classifica stagionale fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo ballottaggio che al momento si sta prestando a vincere appunto Alexis Sanchez andiamo a vedere anche la formazione della Fiorentina che dovrebbe schiarsi con un tre cinque due con Terracciano a porta quindi Milenkovic Pezzella e Caceres in difesa Chiesa Duncan Pulgar Castrovilli e Dalbert a centrocampo in avanti Cutrone e Ribery questa dovrebbe essere la scelta di mister Beppe Iachini per quanto riguarda la formazione della Fiorentina nei vostri commenti fatemi sapere anche le vostre opinioni le vostre sensazioni su questa sfida se volete anche sbilanciarvi in un pronostico eh vi ricordo che eh nel giorno della partita siamo live alle ore venti e trenta quindi poco più di un'ora prima del fischio iniziale della gara per commentare insieme le formazioni ufficiali e poi ci ritrovate live anche nel post partita quindi diciamo attorno alla mezzanotte per quanto riguarda Inter Fiorentina che inizierà le ventuno e quarantacinque per eh commentare insieme a voi la gara eh ascoltare i vostri pareri leggere insieme a voi anche le pagelle mi raccomando quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube al canale Twitch attivate la campanella così non vi perdete neanche un appuntamento in diretta e neanche uno dei nostri tanti video che stiamo pubblicando in questi giorni che trovate anche in formato podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.